Nasce, cresce, consuma e crepa Consuma e crepa Su e giù come una pendola ogni giorno A far passare avanti e indietro su quel treno Nelle cresce il pendolare Una vita sui binari Una vita da passare Stretto contro un finestrino Che continua da parlare Tra il rumore degli astanti Dentro a loro chiacchierare Nelle urla, nelle risa Nel tuo mondo personale Che colpivi con passione Che ti piace immaginare Mentre ancora corre il treno E tu ti lasci trasportare E là fuori nella neppe Niente sembra più reale In quel bianco grande mare E il tuo treno è un galeone Che va Che va E ti piace immaginare E là fuori nella neppe Niente sembra più reale E in quel bianco grande mare E il tuo treno è un galeone Che va Che va Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sorge il sole per calare, sorge il sole per calare, un altro giro sulla giostra che chiamiamo del reale, sorge il sole per calare, sorge il sole per calare. Sorge il sole per calare. Sorge il sole per calare. Come dentro la burrasca, tra una pioggia di vetri infranti, di insulti, di bestemmi e preghiere. Ora che il tempo si è bloccato, tengo in mano la mia vita, la soppeso con le dita. È leggera e a fatica, io la riesco a trattenere. Si contorce per scappare, me la riesco a immaginare. Mentre vola via da questa gabbia sempre uguale, sempre uguale. Sì, sempre uguale. Sì, sempre uguale. Il tempo fa esattamente una violentissima esplosione. Sono andati avanti per tutta la notte i lavori attorno ai resti dei due treni che si sono scontrati nelle campagne tra Andrea e Corato, in un tratto in cui la ferrovia è a binario unico. Noi continuiamo a parlare di quanto è accaduto a bordo dell'A320. Con noi c'è Andrea Castiello D'Antonio, ben trovato dottore. Cosa è accaduta nella mente di questo copiloto e soprattutto di chi lo doveva, tra virgolette, controllare. Nel 2009 aveva dato sintomi depressivi, addirittura mentre era in, tra virgolette, prova. A quel punto sappiamo che nella sua scheda, tra virgolette, che aveva la luftanza, era segnalato questo caso e dunque avrebbe dovuto evidentemente ripetere degli esami. Questa è l'immagine degli Stati Uniti sotto assedio. Due eri sono finiti a 18 minuti di distanza, l'uno dall'altro, all'interno delle torri del World State Center di New York. Purtroppo il bilancio appare catastrofico. Vi chiediamo scusa per la confusione. Però sappiamo anche che recentemente lui aveva subito un controllo da parte di uno psicologo che viene. Una cinquantina di vigili del fuoco assieme agli altri soccorritori e non continuava. Fumo sopra il pentagono. Fatto crollare un tratto dell'intero fabbricato della stazione centrale di Bologna. Intanto al politico di Bari ha iniziato il lavoro per il riconoscimento dell'esame. Come bisogna affrontare questo che è stato di fatto anche uno shock di massa, diciamo, chiaramente, per chi soprattutto ha paura di volare. Vedete sono le immagini del pentagono in fiamme. Sul catturale questa è una persona responsabile della vicina legale del Bologna. C'erano i punti di aria di una sua vita della riccazione dell'esame. Da una parte ci sono le attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. C'erano i punti di aria di un'attività 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 di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.